Buongiorno, devo consegnare la spesa a mio fratello. Ci telefoniamo, dopodiché lasciamo sulla pensilina dell'autobus quanto dobbiamo e poi chi dovere la può ritirare praticamente. Adesso sto lasciando dei generi alimentari e latte per il bambino a mio fratello, visto che in paese cominciano a scarseggiare, quindi gli lascio questi viveri. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.